Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' come una bella donna questa vai. Che costa? Rimbarato dalla scelta. Al taglio quando? Pochi minuti? Aspita! Bello! Bello, 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 bello. E allora? Allora... Quanto di bottiglia? Allora cosa finisce? Ma che sto chiamando? No! 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 Qualcosa per impressionare. Per impressionare. Dai! Bastia che roba! Lili! Che bello! Vengo a me e poi mi so! Aspetta che sono spinto… se vuoi non ci si sono andata cascuna no 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 bravo 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 Siamo tutti qua sotto il gazzetto della portata e ci passano i miei. E' qua Paolo, sto entrando adesso. Iniziamo a chiamare il segretario. Eccoli arrivato. E dove è la mia? Le patatine le ho metto. Iniziamo a chiamare il segretario. 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 Eccoli. Abbiamo... Iniziamo a chiamare il segretario. Iniziamo a chiamare il segretario. Scusate. Cosa? Scusate. 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 bravi 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 bra ma funziona wow ma che parte 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 come non va o ragazzi come mai non va a porca miseria bravo bravo via 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 vai vai ma scoppiano o no dai aspetta rotti parte già ma che piffa o piove lì ma l'ha detto il tuo figlio ma l'ha detto di fare una cosa ehi la vai 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 ehi la grazie 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 per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti